Buonasera a tutti amici della Serie I, sono Riccardo Leonetto e stiamo per assistere all'ultima giornata del girone A prima divisione fra Z-Service e Payglob la situazione di questo girone è strana, ma allettante 4 squadre appaiate a 6 punti, fra cui il Payglob che ha bisogno dei 3 punti per passare al trofeo delle aziende Z-Service che non ha ancora vinto vorrà chiudere al meglio il girone passiamo dalle formazioni con Payglob che gioca con Pardi in porta, poi Pardi il figlio poi c'è un altro Pardi, il numero 32, Romano, Sibiglia e Trimboli lo Z-Service risponde con Vommaro in porta, poi Guerini, Ponzo, Carboni, Franzi, Piova, Uge, Riccardi e Fatigadi allenatore Lopez comincia ora le match la gioca all'indietro per Pardi Pardi ecco Pardi di nuovo palla per Pardi 1-0 Payglob Pardi farà passare la larga di nuovo per l'altro Pardi poi la conclusione l'ha respitta sulla linea, rimessa l'altro Riccardi va via molto bene sulla sinistra, Riccardi a conclusione il pareggio di Z-Service, grandissimo gol di Riccardi ecco Pardi, allarga per Trimboli Trimboli, di nuovo da Pardi la conclusione di Pardi è un missile 2-1 viene avanti dunque Payglob dall'altra parte ecco ancora Pardi Romano si va da Pardi palla che arriva Pardi Pardi tutta una sola Pardi palo gol 3-1 segna l'altro Pardi il pallone è già messo in mezzo viene recuperato da Guerini ripartenza 2-1 adesso occasione per Z e qui la spreca in maniera cramorosa Guerini corner dalla sinistra pallone che passa, gol il gol di Guerini da calcio all'angolo ed è un gran gol questo, è 3-2 Pardi allarga dove non c'è nessuno finisce qua il primo tempo 3-2 fra Pre-Gob e Z-Service a favore degli Arancio comincia ora il secondo tempo l'altra parte adesso la conclusione e c'è il gol di Pardi Umberto sembrava fosse uscito il pallone effetto ottico 4-2 senza una tutta service Guerini la mette in mezzo pallone allontanato da Romano finisce sui piedi ancora di Pardi Umberto perché va a cercare Pardi palo palo di Pardi Guerini va via adesso adesso la conclusione Pardi pallone non in casa all'altra parte Umberto recupera Sibiglia Umberto la conclusione 5-2 scatenato Umberto Ponzi accelera viene fermato ecco allora Umberto Pardi che serve Trimboli palo di Trimboli la palla resta buona ecco Pardi all'indietro e l'azione si conclude infatti Guerini va a cercare la deviazione di Faticati che però non arriva meglio è arrivata ma non è stata efficace di partenza Umberto serve Pardi poi Pardi Umberto 6-2 Trimboli la gioca per Sibiglia che allarga per Pardi Umberto traversa Ponzo grande gol 6-3 Romaro la palla resta per Umberto gol di Umberto 7-3 il gol il gran gol anche di Sibiglia sull'assist di Pardi d'altra parte Pardi serve Trimboli che c'è già anche per lui non c'è più tempo finisce qui P-Glob batte Z-Service un saluto da Riccardo Leonetto P-Glob grazie a tutti